10 milioni di euro, tanto costerà gas, acqua, fognatura ed elettricità per la Ederle 2, tutte spese a carico di AIEM e quindi dei vicentini, accusa il comitato Salviamo l'aeroporto. Sentiamo. Tutti i costi della Ederle 2, la nuova base militare americana è quasi pronta ma resta un giallo, quello dei sottoservizi, chi li pagherà? Il comitato Salviamo l'aeroporto ha una risposta. Noi siamo fermi, un verbale vedato da AIEM e da personale della CETAF del giugno 2006. A parlare la leader del comitato di cittadini che combattono per salvare l'aeroporto civile. Franca Equizzi svella di essere in possesso di un verbale firmato dagli americani della CETAF e dai dirigenti dell'azienda municipalizzata di Vicenza. Praticamente emerge che a carico della città di Vicenza ci saranno circa 10 milioni di euro da pagare per portare le linee, perché gli americani pagano solo gli allacciamenti e le forniture a prezzo di costo, cioè senza CISE e senza IVA. Dunque, secondo la teoria del comitato, fognature, acqua, luce e gas per 10 milioni di euro sarebbero a carico di AIEM. Gli investimenti poi dovranno essere fatti con dei mutui, i mutui verranno pagati dai cittadini ovviamente. Se fosse vero sarebbe una notizia, i cittadini vicentini dovranno pagare fognature, acqua, luce e gas per gli americani. Tutto qui neanche per sogno, il comitato va più a fondo. Oltre il 30% della città di Vicenza è senza fognature, che tutta la parte nord di Vicenza si fornisce di acqua, col pozzo artesiano e che il gas viene fornito dai comuni limitrofi. Quindi il sindaco si preoccupa degli americani ma non dei vicentini. Su tutto questo ci puzza anche il silenzio dei no dal molin, che eventualmente, a quanto ci sembra, sono ben appagati dall'avere avuto il centro sociale all'ex bocciodomo e dal parco cosiddetto della pace, ma io direi dello scempio.